Domenica 8 settembre 2013, Emil Banca lancia la prima edizione della Domenica dell'Arte in Pianura, una giornata di aperture e visite straordinarie in alcuni comuni della provincia di Bologna, aperta a tutti e dedicata a coloro che non hanno mai avuto l'occasione di conoscere meglio i tesori di questo territorio. In particolare i comuni di Arzelato, San Gioio di Piano, Bentivoglio con San Marino di Bentivoglio e Minervio si trasformeranno in vivacissimi centri di numerose iniziative. Per l'occasione palazzi, castelli, musei, ville e chiese saranno aperti al pubblico in via del tutto eccezionale e con orario continuato dalle ore 10 alle ore 18, mentre ristoranti ed esercizi commerciali saranno pronti ad accogliere i visitatori con menu speciali e prodotti tipici. Per i più piccoli sono previste attività e laboratori, il tutto all'insegna del divertimento per una domenica diversa da trascorrere con la famiglia e gli amici. Ad Argelato verranno aperte le porte della quadreria del ritiro San Pellegrino e di Villa Beatrice. Nella prima sono previste visite guidate durante tutto l'arco della giornata, mentre nella seconda verranno allestite delle mostre di pittura, scultura e fotografia. A San Gioio di Piano sarà possibile riscoprire i tesori del centro cittadino, in una piacevole passeggiata tra il Palazzo Comunale, la Porta Ferrara e la Chiesa di San Giorgio, con due guide di eccezione, gli assessori locali Fini e Govoni. A Bentivoglio verranno aperte le sale di Palazzo Rosso e del Castello, mentre per gli amanti della natura le guardie ecologiche dell'oasi Larizza porteranno adulti e bambini alla scoperta di canneti, boschi e laghetti sulle tracce della Cicogna Bianca. A Minervio verranno aperte le porte di Villa Paleotti Isolani, residenza privata che custodisce magnifici affreschi cinquecenteschi attribuiti a Cesare Baglioni e Ludovico Carracci. Con l'occasione sarà possibile anche ammirare le prestigiose opere ospitate nella Galleria Spazia. Infine i più piccoli avranno l'occasione di imparare i segreti della smielatura a San Marino di Bentivoglio, nella magica cornice di Villa Smeraldi, sede del Museo della Civiltà Contadina. Così ognuno potrà realizzare il proprio percorso e vivere una personale e indimenticabile domenica dell'arte in pianura. Tutte le attività, le visite guidate di laboratori sono gratuiti. Maggiori informazioni sul sito www.emilbank.it oppure al numero 051 631 7744.